Agustin Diofor Il governatore francese è in fido Bastien ci aiuta come può Ma l'indipendente è in fido L'indipendenza dei Mahon è lontana Sempre più Un guerriero come te è prezioso per la causa Ti ringrazio Ma servo un'altra confraternita a cui devo fare ritorno appena potrò Ma solo gli spiriti sanno quando accadrà Intanto ho un rifugio e armi da condividere Potremmo allearci per un po' di tempo Che ti serve? Reclute Schiavi liberati I guerrieri possono unirsi a me Mentre gli altri danno vita a una vera e propria comunità Credo di poterti aiutare per un po' E ti passisce Verrai ricompensato per ogni aiuto che mi fornirai Meglio muoversi C'è molto da fare C'è molto da fare Ogni giorno arrivano più schiavi I uomini sono merci che rende Un tempo la mia speranza era che avrebbe prevalso la pietà Ma il profitto annebbia tutti Con la nave giusta può intercettare Le navi di schiavi prima che arrivino Oppure puoi andartene via Hai già pagato il tuo debito nei confronti dei Marun di Santo Domingo E non hai padroni Devi scegliere da solo Questo brigantino farebbe al caso tuo Se lo liberassi dalla sua ciurma Bastien ha chiesto alle sue ragazze Di allontanare gli uomini Oppure puoi incendiare quella torre per distrarli Ottime opzioni entrambe Cosa sono? Sono petardi Sono state le tue reclute a procurarseli È giusto che sia tu a usarli Ottimo Quando mi darai il segnale? Manderò gli uomini in tuo aiuto Chi sta lacatonale? Chi va bene non ti Chi va bene? 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 Non iseri Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.